Una corda per farla finita, ne ha legato un capo alla ringhiera del balcone della sua casa al primo piano, poi ha stretto l'altro al collo e si è lasciato andare. Il dramma nella notte a Ceppaloni, dove un 59enne dipendente dell'Istituto Autonomo Case Popolari si è tolto la vita. È stato un figlio a scoprire il dramma. Aveva contattato telefonicamente il padre, senza però ricevere risposta. A quel punto ha deciso di raggiungere l'appartamento nel quale l'uomo viveva da solo. Terribile la scena con la quale ha dovuto fare i conti, ha cercato di soccorrere il genitore, ma non c'era più nulla da fare. Inutile purtroppo anche l'intervento del 118. Un tragico gesto sul quale hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Ceppaloni. Dopo il sopralluogo del medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, la salma è stata trasferita presso l'obitorio del rumbo, a disposizione del sostituto procuratore Donatella Palumbo.